Sin dalla prima puntata di questa edizione di Ballando con le stelle selvaggia Lucarelli ha ammesso di essere particolarmente sensibile al fascino del concorrente Dani Osvaldo a cui, oltre agli apprezzamenti sulla sua attitudine al ballo, ha riservato i complimenti per una fisicità così prorompente Durante la diretta su Rai una stessa giudice aveva comunicato che il fidanzato Lorenzo Biaggiarelli le stava mandando messaggi gelosi sul tetonino proprio rispetto alle dichiarazioni sull'avvenente ex falciatore, e ieri, invitato a replicare nel corso dell'intervista alla giornalista Dominica Lu, il fidanzato ha fatto chiarezza sulla situazione Per via di quelle parole ho avuto una crisi familiare di sei giorni, ha dichiarato l'ironica selvaggia Lucarelli nel corso dell'intervista durante domenica in a proposito delle battute su Osvaldo e della reazione del fidanzato Lorenzo Lorenzo è l'uomo meno geloso del creato, ma non so perché questa storia di Osvaldo l'ha invitato particolarmente Secondo me perché Osvaldo non è proprio l'anti Lorenzo, tanto l'uno è mai detto, tanto l'altro è trasparente, ha scherzato la giornalista Ed è stato allora che Mara Veniera ha chiamato in causa proprio Lorenzo, seduto tra il pubblico del programma ad ascoltare l'intervista Ho deciso di non parlarne più. Non vorrei poi finire dalla Petrelluzzi a un giorno in creatura, ha ironizzato lo chef 29enne che ha ammesso di aver mandato dei messaggi in diretta alla compagna ma che non centravano nulla con Osvaldo In ogni caso meglio parlarne con te che con l'Aleosina, ha poi concluso rivolgendosi a Mara Veniera, a cui Selvaggia Lucarelli ha raccontato in esclusiva la mascita della storia d'amore con il fidanzato che ha superato tutte le difficoltà iniziali dettate dalle riflessioni sulla differenza d'età, lei 44 anni, lui 29, e oggi è più forte che mai Grazie a tutti